Auguri in musica! A farceli nel tradizionale concerto d'inizio anno al Teatro Nuovo Giancarlo Menotti è la banda musicale Città di Spoleto, diretta dal maestro Angelo Silvio Rosati. Un altro grande successo per il concerto di Capodanno della banda musicale Città di Spoleto e un successo anche per la direzione del maestro Angelo Silvio Rosati. E' sempre emozionante dirigere la prima volta con una banda in questo concerto? Sì, è la prima volta dalla ricostruzione della banda comunale Città di Spoleto perché io ho avuto questo gruppo nel passato sotto il nome Fiati di Spoleto e sicuramente è molto emozionante perché vedete come il teatro è veramente pieno è un evento molto sentito dalla città, quindi fa molto piacere, sicuramente. Maestro, i prossimi impegni della banda? Questo forse possiamo chiederlo meglio al Presidente ma sicuramente verrà fatto, spero, qui al Teatro Nuovo il concerto di Santa Cecilia in questo anno poi sicuramente ci sono in ballo alcuni nomi importanti di musicisti nati nel 1911 quindi faremo in modo di onorarli in qualche modo Grazie maestro e complimenti ancora Grazie 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 Grazie.